Siamo con Emiliano Marini, fratello di Marco, si è appena conclusa l'undicesima edizione del Memorial Ghini, questa volta ha vinto il fratello, insomma una soddisfazione è una soddisfazione. Ebbè è molto importante, quest'anno siamo venuti proprio per cercare di vincere, finalmente ce l'abbiamo fatta, una grossa soddisfazione per Marco, per tutti noi, insomma finalmente all'undicesimo Memorial siamo riusciti ad alzare la Coppa più importante. Insomma un grazie a tutti che ha partecipato, sempre molto presenti le squadre, anche oggi eravamo 10, quindi una manifestazione ormai molto importante in questa città, quindi grazie a tutti e all'anno prossimo. Ha vinto la squadra della TM, ma non è la cosa più importante della giornata, la cosa più importante della giornata è che ci sono ancora dopo 11 anni 9 squadre, in un momento un po' particolare per il calcio a 5, non particolarmente brillante, tra l'altro, per ricordare un ragazzo che non c'è più, insomma fratello non può che far piacere questa cosa, perché insomma vuol dire che a Marco tanti volevano bene. Beh certo, come si vede insomma c'è sempre molta gente a ricordare Marco, veramente una persona molto ben amata da tutti, quindi siamo molto contenti, anche i miei, ringraziamo ancora tutti veramente per la partecipazione, quindi un bacio a Marco, un grazie a tutti ancora. Undicesima edizione di un torneo che ormai è diventato parte dello sport di questa città, che sicuramente andrà avanti, perché insomma l'impegno è della famiglia, degli amici e anche della WISP non manca. Sì sì, andrà avanti sicuramente, nei prossimi anni siamo sempre molto attivi, la manifestazione riesce bene, è sempre molto importante per tutti noi, quindi il prossimo anno, verso aprile, saremo qui per la dodicesima edizione, quindi un appuntamento per tutti al prossimo anno.